per questa prova che andiamo a fare stiamo utilizzando nuova strike di adc scarica la pistola strike adc il nostro sponsor ci ha dato per fare queste prove diciamo è sul tipologia glock 19 però questa abbiamo tutto il frame quindi tutto l'impugnatura che anziché essere in pulimero è in alluminio e tutto il resto naturalmente in acciaio è performata dalle loro lavorazioni e dalle loro mani che come sapete sono dall'assemble dei customer d'eccellenza quindi grazie adc noi faremo queste prove con la loro nuova strike grazie a tutti